Noemi Bocchi pronta ad avvicinarsi ancora di più a Francesco Totti. La nuova fiamma La donna dell'ex capitano compie un gesto molto romantico. Dopo l'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Hilary Blasi, sul web è impazzato il gossip che vedrebbe l'ex capitano della Roma già da tempo impegnato in una nuova relazione La nuova relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e i passi in avanti della neonata coppia La donna che avrebbe conquistato il suo cuore sarebbe Noemi Bocchi, a cui era stata affibbiata anche una presunta gravidanza, prontamente smentita Ormai la loro storia manca solo di ufficialità, dato che entrambi tardano a confermare questa relazione, ma sicuramente qualche progresso c'è Nel corso dell'estate altra protagonista indiscussa di gossip e indiscrezioni è stata la Blasi, che, dal canto suo, ha voluto viaggiare e godersi le vacanze con la famiglia Anche su di lei girano diverse voci che la farebbero già impegnata con un altro uomo, il quale però al momento rimane misterioso Nonostante i tanti nomi che sono stati fatti per indagare su chi è attualmente al fianco della ex moglie di Totti, la presentatrice Mediaset è stata sicuramente più discreta del pupone, non facendo trapelare alcuna informazione, se non le tante ipotesi, che al momento rimangono tali La donna, oltre alla vacanza da sogno in Tanzania, è stata avvistata a Sabaudia, sulle Dolomiti e ora addirittura in Croazia, da dove ha pubblicato alcune storie Tornando alla neonata coppia Totti Bocchi, sembrerebbe che si siano dei piccoli passi in avanti tra i due. Noemi, infatti, avrebbe acconsentito a trasferirsi, per poter stare ancora più vicina a elle suo Francesco Una scelta, data forse dal periodo difficile e stressante vissuto dall'ex calciatore e che potrebbe dare maggior sostegno a quello che in questa estate è stato il protagonista, nel bene e nel male, assoluto dei maggiori gossip Totti Arrivederci, ci vediamo al prossimo video